Il pubblico ha invaso la sala dei notari per il confronto tra i candidati sindaco a Perugia durante il Corriere Forum. Presenti Davide Baiocco, Leonardo Caponi, Vittoria Ferdinandi, Massimo Monni e Margherita Scoccia. A moderare il confronto è stato Sergio Casagrande direttore del Corriere dell'Umbria e di tutte le altre testate del gruppo Corriere. A porre le domande il vice direttore Alfredo Doni e i giornalisti Alessandro Antonini, Sabrina Busirivici e Francesca Marruco. Dal confronto gli elettori si faranno un'idea chiara delle proposte messe in campo da tutti gli schieramenti e scegliere così chi votare dopo i due mandati di Andrea Romizzi. Il dibattito è stato pubblico e i cittadini hanno potuto ascoltare da vicino i candidati chiamati ad esprimersi sui principali temi che riguardano la città. Noi abbiamo sentito due dei cinque candidati. Oggi è una giornata bellissima. Abbiamo appena fatto un confronto importante, costruttivo sui temi, un confronto corretto. Qualche... il pubblico a volte è un pochino più forte ma fa parte di un percorso normale. Siamo davanti a delle elezioni importanti che segneranno il futuro della città. La cosa importante è che abbiamo saputo confrontarci sui temi concreti. Noi abbiamo dato la nostra visione che viene da una conoscenza profonda della città e da un rapporto con i cittadini che intendiamo portare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni. Anzi, riuscendo veramente a investire oltre quanto finora non ci è stato concesso per tanti altri motivi. Ma questo rapporto è un rapporto solido, reciproco e importante. Oggi la città ha risposto a questo evento in maniera corale e ci dà ancora più fiducia per terminare questa campagna elettorale nel migliore dei modi. Primo confronto tra i cinque candidati sindaco per la città di Perugia. Un momento molto importante per restituire alla città quelle che sono le nostre idee e i nostri progetti.